Sostituisce la mano per chi avesse subito un'amputazione ed è studiata apposta per quelli che vogliono continuare a praticare l'arrampicata. È Deca, protesi speciale messa a punto nei laboratori della DARPA all'interno del programma Revolutionizing Prosthetics. Nel video un volontario dell'esercito americano che ha perso la mano in guerra, la testa su una parete del Center Ford & Trepid a Sant'Antonio in Texas. Questo progetto è stato portato avanti proprio all'interno di una collaborazione con il Dipartimento per i Veterani, i primi che potrebbero necessitare di una mano come questa.